Pancotto con le rape, antica ricetta. Tagliamo a tocchetti il pane usando il pane duro o raffermo vecchio di alcuni giorni. Laviamo, sciacquiamo e facciamo scolare le rape. Mettiamo in una pentola abbondante acqua e lasciamo riscaldare fino a bollitura. Buttiamo le patate. Aggiungiamo il sale. Lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Aggiungiamo le rape. Mescoliamo e lasciamo cuocere ulteriori 10 minuti. A questo punto aggiungiamo il pane. Mescoliamo e lasciamo cuocere per circa 15 minuti. Nel frattempo mettiamo l'olio in padella. Aggiungiamo l'aglio. Facciamo leggermente rosolare. Appena il pane ben cotto togliamo dal fuoco. Scoliamo. Rimettiamo il pan cotto con le rape in pentola. Aggiungiamo l'aglio soffritto prima. Un pizzico di sale fino. Accendiamo il fuoco e lasciamo leggermente rosolare per qualche minuto. Mettiamo nel piatto. Aggiungiamo un po' di olio crudo e serviamo a tavola. Buon appetito!